Fra poco ci collegheremo con un altro maestro Luigi Verrini e tu conoscerai, anche se attraverso la voce, due colleghi di strumenti totalmente diversi che però fanno parte dell'ascolto della musica, della nostra storia, dei nostri ascolti musicali. Bene, senti, allora ascoltiamoci insieme al maestro Luca Oberti, visto che è lo strumento, tu dici che comunque è pizzicato entrambi, la chitarra e il clavicembalo, però qui c'è anche questo bellissimo sax clarinetto che suona Simone Valla. Ascoltiamo passeggiando per Brooklyn. Ascoltiamo 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 Sax clarinetto passeggiando per Brooklyn con Simone Valla e Luigi Verrini alla chitarra.